Buonasera e bentrovati con l'edizione domenicale di Icaro Tg. Come di consueto andiamo a vedere le principali notizie di giornata consultando il nostro sito newsrimmini.it. In apertura troviamo la cronaca vende un quadro del 600 risultato rubato antiquaria indagato e seguendo le tracce di un ritratto di fanciulla del 600 sparito da un castello in provincia di Roma ben 46 anni fa e ricomparso nella disponibilità di un antiquario di Milano che i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale sono risaliti alla donna che fino a poco tempo fa lo aveva posseduto. Si tratta di una nota antiquaria cinquantenne residente a Rimini indagata dalla procura riminese per ricettazione. La vicenda ebbe inizio nella notte tra il 29 e il 30 maggio del 1978 quando il quadro fu rubato all'interno del castello del marchese Innocenzo Patrizzi Montoro di Castelgiuliano in Bracciano, Roma. All'interno del castello della Casata che stando al Siusa il sistema informativo della soprintendenza archivistica risale al 1750 fu rubato il dipinto tondo olio su tavola di 53 centimetri raffigurante il ritratto di fanciulla attribuito a Romanelli detto il Raffaellino. Sulla provenienza di quel dipinto l'anno scorso ha chiesto un accertamento ai carabinieri per la del patrimonio culturale di Ancona e poi di Roma un antiquario di Milano che lo aveva appena acquistato a Rimini. Dagli accertamenti degli specialisti dell'arma è emersa l'autenticità del ritratto di fanciulla e la sua provenienza delittuosa. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani hanno poi condotto all'identificazione della commerciante riminese d'arte antica che aveva venduto l'opera all'antiquario di Milano. I militari dell'arma autorizzati dalla magistratura hanno perquisito il domicilio dell'antiquaria di Rimini rivenendo altre opere di dubbia provenienza poi sottoposte a sequestro tra cui dei reperti archeologici e un mezzo busto d'avorio di Beatrice di Sardegna oltre a un dipinto raffigurante San Pietro che risulterebbe rubato a Firenze all'interno di Palazzo Martelli all'epoca in cui ancora era di proprietà del seminario maggiore di Firenze poi trasformato in museo statale. Torniamo ora sul nostro sito andiamo a leggere l'altra notizia di Cronaca. Autodata alle fiamme nella notte indagini in corso dei carabinieri. È doloso l'incendio che nella notte ha distrutto una Chia Rio parcheggiata in strada Sant'Arcangelo. I gnoti hanno appiccato il fuoco alla vettura intorno a mezzanotte 40. In via Mendola sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e concluso l'intervento dopo circa un'ora dei primi accertamenti è emersa subito la natura dolosa del rogo. La vettura appartenente ad una donna Sant'Arcangelo di mezzetà incensurata che abita in zona potrebbe essere stato oggetto secondo una prima ipotesi di un pesante atto vandalico. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Rimini dopo che nella notte una pattuglia del radiomobile si è recata in via Mendola per i primi rilievi. Lo scorso 21 gennaio, sempre in via Mendola, uno scarabeo aveva preso fuoco nel seminterrato di un'abitazione. Dubbi in quel caso sulla natura dell'incendio. Torniamo sempre sul nostro sito perché in piazza Cavour c'è stato un presidio per dire no ai grandi eventi sulla spiaggia libera dei fratini. Il presidio promosso da Monumento Vivi Rimini ha visto la partecipazione ieri di decine e decine di persone che hanno sostenuto il diritto alla spiaggia libera come habitat naturale e bene comune. Le diverse anime ecologiste regionali e nazionali presenti ieri hanno espresso il profondo dissenso nei confronti di scelte politiche che non tengono realmente conto della tutela della natura oltre alla profonda necessità di una visione di spiaggia che non sia soltanto mera risorsa da sfruttare economicamente nell'interesse di pochi. Dicono in una città in cui la percentuale di spiaggia libera è davvero risibile abbiamo tutto il diritto di esigere che almeno questo fazzoletto dove nidificano i fratini venga preservato da logiche di sfruttamento commerciale e manifestazione a violento impatto ambientale. Poi gli ecologisti chiedono al comune che la loro richiesta sia presa seriamente in esame e chiedono anche maggiori controlli da parte della Capitaneria e dei Carabinieri Forestali. Ora invece voltiamo pagina perché il Victor Lounge di Riccione in Viale Ceccarini continua con il suo format Cene Stellate in Salotto. Dieci cene a quattro mani con lo chef residente e un ospite per rilanciare lo storico Viale Riccionese con stelle della ristorazione. Vediamo. Il cibo racconta storie e quella di Domenico Iavarone inizia a Casavatore in provincia di Napoli a 15 anni. Oggi lo chef guida lo zest restaurant del grande hotel la favorita di Sorrento ma è stato al timone del ristorante Maxi una stella Michelin dell'hotel Capo la Gala di Vico e Quense e con la sua brigata è stato il primo chef a portare l'ambita stella Michelin a Torre del Greco. La sua proposta è ispirata alla valorizzazione creativa delle cosiddette materie prime povere. È la più grande ricchezza che abbiamo in Italia perché le materie prime di grandi qualità sono assolutamente povere perché nascono dalla natura di quella che è la stagionalità contadina che poi sta a noi farle diventare ricche. Al Victor di Riccione ha ritrovato il compagno di viaggio che per sei anni è stato suo collaboratore, Fernando Squitieri, chef padroni di casa al locale storico di Viale Ceccarini. Dal carciofo ripieno di manzo, provola, tartufo e pancetta croccante, al risotto con limoni, scampi e liquirizia, al pre-dessert di limone sorrentino, un omaggio alla loro terra e all'amicizia che li lega. Siamo praticamente cresciuti insieme, io ho nei suoi confronti un grandissimo senso di gratitudine per gli anni che è stato con me, non ho potuto che fare altro che portare una serie di piatti che fanno parte del sole e della bella sorrento da cui oggi vengo. Non solo passione e creatività, ultimamente il mondo delle cucine di un certo livello è al centro di polemiche per alcuni episodi al limite della sopportazione dello stress lavorativo. È difficile nel momento in cui il lavoro ti diventa pesante, ma se tu vivi il lavoro come se fosse, tra virgolette, un gioco, perché noi siamo abituati a giocare, nel senso che guardiamo il lavoro quotidianamente con gli occhi di un bambino che non perde mai l'entusiasmo di far sì che la gente che frequenta il ristorante stia bene. Il patron del Victor Lounge con questi eventi ha in mente un rilancio anche internazionale del viale più famoso di Riccione. Io penso che la storia va sempre iscritta, se no rimaniamo un museo. Posso dire che abbiamo dieci chef di cui tre con una stella, cinque con due stelle e gran finale due con tre stelle e che poi ci porteranno un'evoluzione di portare anche in un futuro prossimo dei chef di fama internazionale, quindi chef inglesi con tre stelle, altre idee, non posso dire tutto adesso. Qual è il suo piatto preferito? Non ne ho, ti dico la verità, ho solo un bagaglio di tantissimi ingredienti che partono dal Piemonte e arrivano in Sardegna che a me piace mangiare. Ultima puntata ieri sera del nostro programma Cellenciamo, una sfida tra città dove ogni comunità porta in gioco i propri talenti. A spuntarla è stato il team Riccione Parrocchie. Vediamo i momenti più divertenti della serata conclusiva. Ed eccoci, ed eccoci qua per questo gran finale di Cellenciamo. In studio con noi il Bellaria e Geomarina! E invece qui alla mia destra erano nell'ultima semifinale, proprio il primo giovedì, il Riccione! Bellaria e Geomarina! Bellaria e Geomarina! Pietro Zangheri è stato un illustre studioso romagnolo di Bella Vediamo un po' al microfono Botanico No Adesso l'irezione giustamente aspetta la sequenza Architettura Fisica Scienze naturali Riccione Scienze naturali Scienze naturali Anche qui per pochissimi voti posso dire ben 12 di differenza Solamente 12 voti di differenza La gara, la finale se la porta a casa Il Il riccione Per soli 12 punti Ora invece passiamo allo sport perché il canoa club Rimini soffia su 40 Candeline ieri soci dell'associazione sportiva dilettantistica si sono ritrovati presso la sede del club per una giornata di festa Vediamo 40 anni di canoa club Rimini Ieri la festa di compleanno nella sede di via Labriola 5 lungo l'argine del fiume Marecchia Dal 12 marzo del 1984 il canoa club Rimini ne ha fatta di strada Dall'affiliazione nell'88 alla federazione italiana canoa kayak all'organizzazione di corsi divulgativi per l'avviamento alla canoa e di perfezionamento Tenuti fino al 2016 al lago Santarini a San Martino di Mulini ma anche in altri laghi in fiumi e al mare All'organizzazione dal 90 della Rimini in voga conosciuta e apprezzata in tutta Italia E di altre manifestazioni come la regata di fondo valida come campionato regionale Emilia Romagna e la paddling challenge Nasce da un gruppo di ragazzi con la passione della canoa in un garage là in via Parmense Si sono messi e hanno organizzato questa società, hanno fondato questa società Il club in questi 40 anni è cresciuto molto, adesso abbiamo una sede nostra, tanti soci Anche molte donne si sono iscritti e fanno canoa e questo è quello che riguarda il turismo Abbiamo anche una squadra agonistica che oggi purtroppo non è presente perché è a Sabaudia per fare delle gare di velocità Abbiamo un gruppo anche fluviale Noi già da diversi anni facciamo i nostri bei corsi al mare per l'avviamento della canoa E anche per chi vuole specializzarsi tipo per andare nel fiume e queste cose qui Corsi specifici per l'attività fluviale E stiamo collaborando ultimamente proficuamente con tre istituti L'istituto Dante che è una scuola media qui di Rimini Il Valturio e da quest'anno anche il Serpieri Facciamo attività con le scuole, andiamo in classe, ci incontriamo con i ragazzi Gli spieghiamo l'attività teorica e poi ci si vede presso la nostra altra sede al mare al bagno 15 di Viserba Dove lì gli facciamo fare praticamente lezioni di pratiche E poi c'è la normale attività turistica con tutti i nostri soci Oltre a muoversi qui nel Riminese facciamo anche uscite Anno scorso abbiamo fatto un gemellaggio con Rapallo, siamo andati in Liguria Quest'anno abbiamo in mente di fare un altro gemellaggio con il gruppo del Lago di Zeo E più uscite così qualche weekend per poterci divertire, fare attività diverse Magari non in solito giro qui al mare e via dicendo E in più abbiamo un bel gruppetto di uomini duri per così dire Che continuano a navigare per i fiumi e scapicolarsi In chiusura invece torniamo sul nostro sito newsrimmini.it Dal mare all'entroterra le fogheracce in provincia di Rimini Domani sera si celebra la festa di San Giuseppe la fine dell'inverno Con le fogheracce, fogheracce o altre varianti Che però si rifanno la stessa tradizione Quella del falò e dello stare in compagnia A Rimini in zona porta Marina Centro Si tiene la tradizionale fiera di San Giuseppe Con il grande falò sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovice Il mercatino con bancarelle di prodotti vari Già dal tardo pomeriggio sul lungomare L'accensione della fogheraccia preparata da Antea Con legname proveniente dalle recenti potature È prevista intorno alle ore 21 E domani dalle 16 alle 24 È stata disposta la chiusura totale Al traffico veicolare del lungomare Tintori Nel tratto dalla via Adolfo Busi a Largo Boscovice E dalla via destra del porto fino a Largo Boscovice Nel tratto dal viale Colombo appunto sempre a Largo Boscovice Altre fogheracce anche a Viserba, Viserbella e Torre Pedrera Un'altra anche a San Giuliano Mare e Riccione Anche a Sant'Arcangelo ce ne sarà una Ovviamente a Cattolica e a San Giovanni in Marignano Potrete trovare il programma completo da consultare sul nostro sito newsrimni.it È tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona domenica Grazie a tutti